E' calato ieri il sipario sul calciomercato di Serie D, tanti i movimenti dell'ultimo giorno. Protagonista il Giulianova che ha svincolato ben otto calciatori portando a termine anche due arrivi. Alla corte di Francesco Giorgini sono approdati Stefano Cichella, diciottenne centrocampista proveniente dalla San Benedettese, e Nino Di Stefano, classe 90, difensore che arriva dalla formazione romagnola del Bellaria Igea Marina. Sono invece stati svincolati Zauri, Gian Sante, Valdes, Leone, Rosafio, Merlini, Ippolito, Schiera, Angelino e Pinciarelli. Anche il chieti del presidente Belli ha chiuso delle trattative, sfoltendo soprattutto l'organico a disposizione di mister Ronci. La società neroverde ha svincolato il difensore esterno Andrea Carlini, passato alla Civitanovese, il portiere Andrea Tomarelli, l'attaccante Federico Arcamone e l'ex lancianese Augusto Marfisi. Due giorni fa aveva salutato l'Abruzzo anche il centrocampista Gennaro Vitale, che andrà alla Lupa Roma, via anche il difensore Cucinotta. Quattro gli arrivi alla corte teatina, si tratta di Michele Alberta, difensore classe 97, e di Giorgio Di Federico, difensore del 97, anche lui che rientra dal prestito al Borrello. Ai due giocatori vanno aggiunti Sgambato e Broso, che hanno già esordito in neroverde nell'ultimo turno, nella vittoriosa gara con il Giulianova. Il San Nicolò di Massimo Epifani ha concluso nella giornata di ieri due operazioni. In Biancazzurro è approdato il terzino destro, classe 87, William Gentile, dal Colonia, mentre è stato ceduto ai laziali del Palestrina il portiere Damiano Palombo. Nessuna operazione per Celano e Amiternina, che così proseguiranno la stagione con l'attuale organico. Nelle girone F, la San Benedettese ha svincolato cinque giocatori, prendendo il difensore Michele Menicozzo, ex giocatore dell'Aquila.